Non devono toccarli. Non c'è problema. Ora venite con noi. Adesso andiamo. Dove correte? Tom, vai a prenderli. Ti voglio bene, mamma. Ti voglio bene. Mamma! Mamma! Non le tocchi! Prendi la tua bambina. Ho bagnato i pantaloni. Non fa niente. Prendimi l'osso. Vieni, piccolina. Vedrai. Andrà tutto bene. Perché? Che ne sarà di noi? Che ne sarà di noi? Che ne sarà di noi? Di noi. Vedrai!